E' stato presentato presso la sede degli Alpini di Alessandria la presenza del presidente del Centro Servizi Volontariato Alessandri Asti Piero Valdovino, il nuovo atlante del volontariato 2019, aggiornato nei contenuti nella veste grafica come strumento di orientamento nel mondo dell'associazionismo locale a favore di persone che dispongono di tempo libero e vogliono utilizzarlo per fare qualcosa per gli altri. Sarà uno strumento utile anche alle associazioni stesse che possono avere riferimenti rispetto a tutte le realtà operanti nel settore. La pubblicazione nasce dalla mappatura delle associazioni di volontariato operanti nella provincia di Alessandria e di Asti che sono 565 ed è disponibile presso le sedi provinciali del CSWA. E' importante perché è una bussola, è una bussola che può utilizzare sia il volontario, il nuovo volontario che vuole avvicinarsi alle associazioni ed è importante sia le associazioni stesse perché possono conoscersi anche fra di loro. E' un atlante suddiviso in settori, quindi c'è il settore sanità, c'è il settore cultura, impegno civile, socioassistenziale. Possiamo dire che il volontariato è il motore di questa società di oggi? Sì, soprattutto adesso che è stato riconosciuto con una legge, la legge del terzo settore. Con la legge del terzo settore è stata normata tutta quella zona grigia che era il mondo del volontariato. Teniamo conto che in Italia ci sono 6 milioni di volontari ed ormai operano nella società con una sussidiarietà circolare. Com'è possibile avvicinare i giovani oggi al volontariato? La politica del CSV Astia Alessandria da un anno a questa parte si è indirizzata con delle campagne di ricerca nuovi volontari, non solo rivolte ai giovani ma anche agli estracomunitari. Facciamo degli incontri anche a scuola, ci presentiamo e quindi un passaparola è molto importante.